salve ragazze nuovo refill l'ho lasciato senza tagli per farvi vedere la mia rimozione del gel io per togliere il gel con questa fresa questa punta ci ho messo tre minuti sono molto veloce me ne vanto perché questa è nel come si dice nel corso che ho fatto fast refill ho vinto io nella rimozione del gel ho lasciato tutto il video non ho tagliato niente vedete questo è il natural cover easi della michelle come vedete intatto non ha nessun difetto lunghi è perfetta la mia baby sitter e le avevo fatte prima di natale ciao 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 per l'esattezza ci ho messo 3 minuti e 38 secondi tanto per essere perfette con gli orari adesso farò un video un po più accelerato farò tutta quanta la preparazione dell'unghia e andrò a usare una punta diamantata e farò anche il passaggio proprio per la preparazione dell'unghia con questa punta perché è nuova e mi sembrava che la giusta abrasione accesse proprio al caso mio non rovina l'unghia perché abbassa i giri, io lavoro a 7000 giri in questo momento preparo l'unghia e sono pronta poi per i preparatori vedete qua sto ripassando perché avevo solo allontanato le cuticole mi ero dimenticata di opacizzare l'unghia insomma fare la preparazione dell'unghia ho rifatto di nuovo il passaggio adesso metto il mio bonder gel della michelle lascio che asciughi e passo alla base ecco qua base e voilà inforni cari ragazzi non volevo farvi prendere un infarto ma ho lasciato un pezzettino di video proprio con la musica quando lavoro io con la mia amica questa sono io avete sentito anche un po' di veneziano ho detto è stato carino insomma questo è il mio quando faccio le unghie mi diverto chiacchiero cantiamo insomma io ho lasciato un pezzettino naturale di così capite un po' come sono pazza io adesso andiamo ad usare il tic only one monofasico della michelle oggi mi va così l'unghia è quasi perfetta non ha problemi è un autolivellante come ho già detto lei è una curva molto pronunciata la famosa corva c c'è chi fa la pinzatura invece lei la pinzatura non serve perché è già un'unghia perfetta vado con il mio monofasico autolivellante vedete scarico la pallina la tiro in avanti in avanti ho già tutto il prodotto che mi serve perché era mantenuto benissimo tranne un dito che avete visto che è partito un pezzettino sul medio e catalizzo e vado faccio questo passaggio e faccio un'unghia alla volta ecco qua vedete questo gel è bellissimo molto molto mi piace molto e non scotta che è la cosa che mi piace è una durata veramente estrema sono veramente dei bei prodotti io ve lo dico ve lo ripeto se volete volete iniziare a fare questo per passione per lavoro volete partire con una marcia in più avere fare bella figura che le unghie durino dovete usare questa linea di gel sono bellissimi mi piace molto mi dispiace che non sentite più battisti e non mi sentite più cantare probabilmente per questo che ho poca voce adesso metterò un po in aumento diciamo veloce un po vi faccio vedere la stesura del colore grazie a tutti ecco qui ho già iniziato ho sgrassato e ho già iniziato la limatura sempre io vado con questa lima quadrata mi dà più sicurezza ce l'ho più diciamo ferma in mano e per fare la forma e uso sempre questa è un 100 180 sempre nella michelle è una lima molto rigida e molto bella una grana che mi piace insomma e con questa accorcio vedete il rosso dei lati che lasciato sparisce già dimezzato i tempi non ho fatto la limatura precedente ma ho fatto solo questa adesso con questa puntina che io la chiamo raptor ma che è la 112 della michelle vi devo dire la verità mi piace proprio proprio tanto ha una grana così sottile non si vedono neanche le rigature e io quando ho finito di fare questo passaggio ahimè la limatura lo sapete che mi piace dopo che ha finito di fare con questo passaggio io passo con l'ufer e io ho finito poi passo al colore vedete meravigliosa anche questa arriva veramente bene attorno alle cuticole bene perché devono essere perfette sennò poi la stesura del colore mi dà problemi vedete io ci do una passatina con il buffer 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 ed è l'unghia è finita faccio così tutte quante due le mani e wallah ho approfittato di tagliare una cuticola poi me ne sono anche pentita perché come vedete lì c'è un po di appena 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 per un po non gli facevo male so che delicata lei prende dei farmaci un po sanguina molto facilmente faccio questo passaggio per darmi un po diciamo alzo un po di più la cuticola per poi dare il colore proprio bene 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 vicino alla cuticola ecco qua pulisco l'altra mano e faccio la stessa cosa la stessa cosa Grazie a tutti. Grazie. Qui siamo già passati al colore, questo è un Pretti 144 della Michelle, molto bello, io per scrupolo lo passo due volte però vi posso dire che già la prima passata è molto bello, brillante e anche coprente. Grazie a tutti. 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 Vedete che meraviglia di colore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.